da ieri c'è una data segnata di rosso sul calendario di matteo salvini si tratta del prossimo 14 maggio giorno in cui salvo colpi di scena il giudice per l'udienza preliminare nunzio sarpietro pronuncerà il verdetto sul caso della nave gregoretti in cui al capitano viene contestato il sequestro di persona per i ritardi nello sbarco nel luglio 2019 di 131 migranti salvati dall'imbarcazione della guardia costiera italiana quel giorno il gruppo avrà davanti a sé due opzioni emettere un decreto di rinvio a giudizio con la fissazione della prima udienza dell'eventuale processo oppure dichiarare una sentenza di non luogo a procedere è questo l'ultimo sviluppo che emerge dalla delicata e lunga udienza di ieri celebrata nell'aula bunker del carcere bicocca di catania in cui non sono di certo mancati i colpi di scena il primo di questi è stato il provvedimento con il quale il gruppo sar pietro ha dichiarato inammissibili le audizioni di alcuni ufficiali della capitaneria di porto e dell'ex presidente della medex consigliere del csm luca palamara l'audizione di quest'ultimo era stata chiesta dall'avvocato corrado giuliano in rappresentanza di una delle parti civili l'associazione accoglierete una richiesta di testimonianza che il penalista riteneva necessaria in quanto sarebbe stata utile per fare chiarezza su uno spazio grigio una preoccupante zona d'ombra e del clima nel quale si sono consumate le fasi del procedimento in particolare gli volevano chiedere conto dello scambio di messaggi con un collega magistrato nel quale commentando l'inchiesta aperta dal procuratore di agrigento luigi patronaggio su un altro sbarco successivo quello di open arms per il quale ci sarà un'udienza il prossimo 20 marzo si lasciava intendere che salvini fosse vittima di un attacco politico giudiziario un'istanza che tuttavia non ha convinto neppure la difesa del capitano con l'avvocato giulia buongiorno che opponendosi alla richiesta ha spiegato di palamara non si sta parlando per come si dovrebbe ma in questo processo non possiamo fare un altro processo che probabilmente ci sarà ma in un'altra sede di attaczione